Alle classi quarta e quinta della scuola primaria Tommassetti di Verbagna, in rappresentanza di tutte le scuole elementari del VCO, Acquanovara VCO ha consegnato nei giorni scorsi il volumetto Acqua in mente, impara, sperimenta, gioca. Alla fine di un percorso formativo che abbiamo già iniziato l'anno scorso nella scuola media del comune di Verbagna ed è la distribuzione a tutti gli alunni delle quinte elementari delle due province, quindi si tratta di più di 5.000 bambini, di questo libretto fatto a modo di fumetto che spiega quanto è importante la risorsa Acqua e tenta di educare un po' i bambini a considerare un bene prezioso e quindi a educarli ad un utilizzo più consapevole di questa preziosa risorsa. Gli insegnanti potranno proporre la lettura in senso didattico del volumetto, ma anche realizzare esperimenti o giochi suggeriti dalle pagine di Acqua in mente. E bisogna parlarne anche con bambini più piccoli, specialmente sul nostro territorio dove l'acqua è in abbondanza e lo diamo per scontato. Loro e le loro famiglie trattano l'acqua come se fosse una risorsa infinita, invece non lo è e siamo noi che dobbiamo educarli al rispetto e alla conservazione di questa preziosa risorsa. Tutto passa dall'educazione, quindi informare, educare, perché sono i cittadini del futuro, sono quelli che a loro sarà demandato il fatto di avere un sistema sostenibile oppure no.